Mirko Gasparotto, presidente della Arwell Italia, azienda leader nel settore della distribuzione industriale. Una storia da film quasi, quella di Mirko Gasparotto, self-made man, entrato in questa grande azienda come fattorino. Sì, è proprio la realtà. Nel primo novembre del 1983 sono entrato dalla porta di servizio, nel vero senso della parola, poi una serie di coincidenze, prima venditore, poi direttore commerciale, poi è venuto a mancare il fondatore, mi hanno portato a essere oggi l'azionista e anche presidente del gruppo con grande piacere. Ma ho lavorato molto su me stesso perché il concetto che porto qui oggi al festival è il concetto di lavorare su se stessi. Solo lavorando su noi stessi diventiamo persone migliori e più complete. Lavorare su se stessi parte da una grande consapevolezza delle proprie capacità? Più che altro parte dal fatto che l'uomo è una macchina complessa, bisogna lavorare su tutti quanti gli ambiti. Purtroppo le persone di solito lavorano prevalentemente sull'ambito professionale e diventano dei numeri uno sull'ambito professionale, ma poi sulle altre aree fanno un po' acqua, diciamo. E quindi lavorare su tutte quante le proprie parti significa avere un progetto di vita, strutturare il progetto di vita, tentando di essere vincente in tutte quante le aree. Per fare questo bisogna allenarsi, bisogna lavorare. Sono 22 anni che con la passione della formazione lavoro su questa. Quindi energia uguale capacità progettuale? Assolutamente sì, capacità progettuale, capacità di darsi obiettivi, capacità di riprogrammare, capacità di modificare, capacità di rilanciare, capacità di avere una visione vincente in tutti quanti gli ambiti. Noi abbiamo più o meno 8-9 ruoli nella nostra vita che svolgiamo mediamente. Ecco, la capacità di progettare al meglio tutte quante queste interpretazioni. Perché penso che il maggior ramarico di una persona è di non essere diventato quello che poteva diventare alla fine. Di che cosa si occupa esattamente la Arwell, distribuzione industriale, in quali settori? Parte dal mondo della soldatura che è il cuore storico dell'attività, poi si diversifica nel campo degli utensili, degli strumenti di misura, degli articoli tecnici. Oggi siamo leader nel campo dell'antinfortunistica, tutti quanti strumenti di produzione. E l'ultima acquisizione del gruppo riguarda un'azienda che proprio fornisce dispositivi di sicurezza agli eserciti di un po' di tutto il mondo. Quindi in Italia i carabinieri, le guardie di finanza, i pompieri e quant'altro. Quindi la sicurezza, insomma, da lavoro a un migliaio di persone in Italia. C'è un progetto molto interessante sul quale state lavorando. In caso di gravi calamità, la possibilità di recuperare persone ancora in vita? Sì, stiamo studiando un giubbotto per i vigili del fuoco, che sia un giubbotto particolare con dei sensori che aiuti i soccorritori quanto più possibile a trovare le persone ancora in vita sotto le macerie. Come affronta il momento di crisi un'azienda come l'Arowell? Trasformandolo in un momento di sfida. La crisi è solamente una condizione mentale che bisogna superare. Sicuramente oggettivamente la situazione è difficoltosa, ma è il nostro atteggiamento di reazione che fa la differenza. Noi dobbiamo pensare che ormai questa è la situazione del mondo, purtroppo. E quindi dobbiamo trovare dei modi di reagire diversi. Parliamo anche di questa filosofia dell'inutilità imprenditoriale. È una filosofia a cui io tengo, non è strana, ma secondo il mio punto di vista l'imprenditore, parlo del nord-est, quindi vengo dal nord-est, quindi è tutto dire una filosofia. L'imprenditore compie la sua missione nel momento in cui diventa inutile, perché l'azienda in se stessa è un bene sociale. Il dividendo e l'azione è dell'azionista, ma l'azienda è del posto, è del popolo, sono delle famiglie che ci lavorano. Quindi rendersi inutili dovrebbe essere la missione di tutti quanti gli imprenditori. Speriamo che molti vi seguano questa mia teoria. Attualmente quanti imprenditori italiani hanno compreso questa filosofia? Diciamo pochi in Italia. Io a 42 anni ho ceduto tutte quante le cariche operative proprio per dare un po' di spazio in più alla mia vita e dare soprattutto spazio in più ai miei collaboratori che sono cresciuti come funghi incredibili in stagioni come queste, quando piovose, che i funghi sbocciano fuori senza problemi. Infine un consiglio a chi inizia un'attività imprenditoriale? Affidarsi a un buon mentore, perché oggi questa figura del mentore per i giovani imprenditori non esiste. Il mentore dovrebbe essere la persona che aiuta questi giovani imprenditori a orientarsi in questo mondo pieno di ostacoli, pieno di difficoltà. Io dico spesso che chi ha anche una grossa impresa oggi, è partito 30 anni fa, oggi farebbe difficile trovere difficoltà a aprire un'edicola. Quindi affidarsi ad un mentore, a qualcuno che li guidi, perché c'è assoluto bisogno di essere guidati in questi tempi.